ci sono mamma camion e camioncina perché state ferme lì fuori la galleria è bloccata e non potete passare è meglio dare un'occhiata c'è stata una grossa frana un'altra frana siamo intrappolati qui non preoccupatevi ho la mia cassetta degli attrezzi ci serve un attrezzo molto più grande neanche tilly riesce a spostare la roccia adesso come faremo ad uscire wow non sapevo che fossi così forte mamma camion ci ha salvati ora è meglio che chiami eric l'escavatore per rimuovere anche le altre rocce ci vediamo presto per divertirci con altre avventure all'officina di gecko